Carissimo amico Emanuele, con questa mia presenza saluto te, la moglie, i figli e tutta la famiglia della tua moglie e poi ancora saluto Peppino, pollice bell e Rocco, ugandante Allora ti ho registrato, anzi che ho copiato, non ho registrato, ho copiato quel frammento che avevamo registrato quando sei venuto a giugno del 1990 qui a casa mia Poi c'è ancora la partita che siamo andati a vedere a Zurigo, Venosa di Zurigo contro Venosa di Potenza Spero che sarai contento, se mi ricordo ti metterò anche la cartolina che ti ho spedito Ti ho spedito una cartolina e mi è tornata indietro, te la faccio vedere, ce l'ho proprio qua Guarda, la vedi? La metto in San Michele, eh? Questa mi è tornata indietro, perché tu non mi hai dato gli indirizzi giusti Tu direi che io sono come Totò con cui ho portato un bambino con il Seesvennupesce, acciugscindleruchela, agliatsupesce Comunque spero che ti abbia fatto piacere questa mia sorpresa E arrivederci a presto, ti registro tutto, ciao E' stato un'amprovvisata, eh? Ciao!